Musica In questa edizione del DNews non si arresta l'emergenza sbarchi in Sicilia i migrati arrivati ad Augusto e Catania. Intanto proseguono le indagini nella procura di Catania per fare luce sul terribile naufragio di domenica scorsa. Beni per oltre 500.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Siracusa in compartecipazione con l'addia di Catania Annunzio Salafia vicino al clan mafioso degli Aparo Nardo Trigila. Fare squadra, l'obiettivo è il nuovo servizio di raccolta dei pneumatici fuori uso in Sicilia. Il 25 aprile, per non dimenticare, lo scopo è la manifestazione voluta dalla CGL insieme all'Associazione Partigiani d'Italia in programma per sabato a Catania. Presentato a Catania, saremo d'occo 2016 il progetto esclusivo per la Sicilia per la selezione di artisti a fare esibire durante la settimana della 66esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsitalia 168. Job Creation, le migliori soluzioni per pianificare le vostre campagne pubblicitarie su impianti poster. Realizza la grafica e la stampa. La Job Creation dispone di impianti LED, il nuovo mezzo di comunicazione dinamico. Job Creation, lavoriamo per definire il vostro futuro. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciali di confe cooperative, a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in a start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in corso Sicilia 24. Sono 220 migranti approdati questa mattina al porto di Catania e tratti in salvo dalla Guardia di Finanza. L'SOS è arrivato a 40 miglia dalla Libia. I migranti si trovavano in due barconi in pessime condizioni ed è per questo che hanno subito lanciato attraverso un telefono satellitare il grido d'allarme. Si è recata sul posto la Guardia di Finanza che li ha portati questa mattina al porto di Catania. Ne dicevo 220 migranti, tra loro 6 donne, 4 delle quali incinte, nessun bambino e 3 uomini sospettati di essere scafisti. Per questo già sono scattate le enagini e ovviamente i relativi interrogatori per capire quella che è stata la dinamica e degli imbarchi e anche della richiesta di aiuto. Abbiamo sentito proprio il tenente che ha guidato una delle unità navali e la Guardia di Finanza che ci ha raccontato quello che è stato il trasbordo dei migranti dal gommone all'unità navale. Abbiamo sentito anche i rappresentanti di Save the Children e anche dello IOM proprio per farci spiegare quello che è successo, quelle sono le condizioni e cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni considerando anche le ottime condizioni del mare. Si parla ancora di centinaia di migliaia di sbarchi che sono previsti nelle prossime ore nella nostra terra. Ancora non si può dire niente, sono in corso accertamenti. È difficile, è difficile identificarli indubbiamente perché tentano chiaramente di nascondersi tra gli altri. I migranti erano non tanto stremati perché erano quasi a ridosso delle coste libiche, si parlava di 40 miglia dalle coste libiche. L'equipaggio è stato molto bravo, l'equipaggio del pattugliatore in quanto è riuscito a trarre il meglio da parte dei migranti nel senso che è riuscito a trasbordare tutti i migranti da questi gommoni fatiscenti da questi gommoni fatiscenti che veramente in condizioni precarie è riuscito a trarli in salvo all'interno del pattugliatore della Guardia di Finanza. Siamo riusciti a trarre tutti in salvo. Una volta che sono sediti a bordo sono state effettuate le prime assistenze, ovvero sono state data acqua, cibo e quant'altro. Erano abbastanza provati da quello che hanno nel loro territorio, nel loro paese. Considerando le difficoltà che sta vivendo adesso la Libia, cosa ci dobbiamo aspettare? Ci parlano di situazioni di sicurezza completamente assenti e invece i migranti ci parlano di situazioni di abusi fortissimi nei confronti loro. Ho parlato con molti migranti in questi giorni, ma anche negli scorsi mesi e tutti mi confermano che una volta entrati in Libia la situazione per loro diventa drammatica. Viene definito come un inferno la Libia. Una volta entrati nel paese vengono subito derubati di tutto. Se camminano per strada possono essere rapinati, se non danno i soldi sono picchiati. Poi a volte sono rinchiusi in centri di detenzione e devono scappare o pagare per uscire. Non è raro che persone alcune purtroppo vengano anche uccisi senza nessun motivo apparente. Quindi è una situazione di disperazione totale in cui alla fine si finisce nelle mani di questi trafficanti che offrono l'opportunità di andare in Europa e anche lì però inizia un altro inferno perché nelle mani dei trafficanti gli abusi aumentano. Gli uomini ancora sono picchiati e purtroppo abbiamo racconti di donne violentate prima della partenza. Quindi si tratta di una situazione seria e crediamo che in Libia in questo momento ci siano molte violazioni dei diritti umani nei confronti dei migranti per cui tutti i migranti in questo momento si trovano nel paese e a nostro avviso vanno considerati come vulnerabili. Non esiste una soluzione facile, è un problema che è molto complicato ed è causato da tantissime motivazioni. Comunque la priorità assoluta, totale, principale in questo momento è quella di salvare vite in mare. Abbiamo avuto più di mille morti in dieci giorni, 1750, 1750, 1750, poi sono estime che sinceramente sono purtroppo anche ottimistiche, temiamo che i morti siano anche di più, che sono morti da gennaio. L'anno scorso a quest'ora i morti erano circa un centinaio, quindi parliamo di 16-17 volte più morti quest'anno. Quindi è chiaro che la priorità da domani è quella di salvare vite umane. Non si ferma l'emergenza a sbarchi, ad Augusta più di 400 in arrivo stanotte, stamattina 220 a Catania, ci sono delle donne, un trasbordo tra l'altro non facile sopra le navi della Guardia dei Finanza. Hanno detto che sono partiti, erano in due diversi gommoni, le condizioni delle imbarcazioni erano veramente molto precarie, imbarcavano acqua e ci hanno detto che se non fossero arrivati i soccorsi sarebbero morti. Che condizioni in generale di salute? Sono esausti, certamente sono esausti ovviamente, non sembra che abbiano particolari patologie, nessuno è stato al momento portato in ospedale. Cosa ci dobbiamo aspettare? Quanti altri sbarchi? Perché sono tanti i gommoni in questo momento che stanno chiedendo aiuto? Ce ne dobbiamo aspettare tanti perché purtroppo la situazione che lasciano alle spalle è terribile, non hanno altra alternativa e cercano, rischiano anche la traversata, ma è l'unica possibilità che hanno di vivere. Continuano le indagini nella procura di Catania in merito al naufragio sul canale di Sicilia avvenuto nella notte fra sabato e domenica. Due dei sopravvissuti sono stati arrestati e sono accusati dai compagni di viaggio rimasti in vita di essere gli scafisse e il barcone che si è ribaltato. Da ieri sono in corso le audizioni in questura di quattro minorenni sopravvissuti al naufragio di domenica. Due sono stati condotti nell'ufficio giudiziario di Catania, mentre gli altri sono stati sentiti nel centro di accoglienza alla madonnina di Mascaluccia dai funzionari della polizia di Stato. Il nostro barcone, prima di affondare, ha sbattuto tre volte contro il mercantile che era venuto a soccorrerci. Dice un 17enne del Bangladesh tra i quattro minorenni sopravvissuti, rievocando la tragedia a largo della Libia. Sull'assunzione di alcol e droga da parte del comandante dice di non esserne a conoscenza. Lo vedevo fumare, ma non so che cosa fosse. Dopo la collisione tutti sono finiti in mare. Sono rimasto in acqua mezz'ora e mi sono salvato perché so notare. L'inchiesta fa il palio con quale la procura di Palermo, che ha portato a gallo un network criminale gestito in Sicilia da Basisteri 3, che aveva la propria base operativa nel cara di Mineo. Intanto c'è un nuovo accusatore per il comandante. Si tratta di uno dei presunti scafisti, il siriano Mahmoud Bikit, membro dell'equipaggio del barcone, che ha attribuito ogni responsabilità della tragedia alla tunisina Mohamed Alid Malek, indicandolo come il comandante è colui che ha provocato la collisione con il mercantile. I due fermati sono stati interrogati dai magistrati della procura di Catania per circa cinque ore. Da parte sua, però, il comandante respinge ogni accusa «Io ho pagato per viaggiare, ero un passeggiore e non ero alla guida». Non avrebbe visto cosa sia successo e ha ricondotto l'accaduto a un errore umano. Il tunisino è difeso all'avvocato Massimo Ferrante, che ha rinunciato ad assistere l'altro presunto scafista per incompatibilità, visto che ha accusato l'altro indagato di essere il comandante. La Guardia di Finanza di Siracusa, unitamente alla DIA di Catania, ha eseguito nel siracusano a Floridi e Melilla un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Siracusa a essenza dell'articolo 24 del decreto legislativo numero 159 del 2011 di numerosi beni riconducibili, annunzio Salafia, elemento di un notevole spessore del clan mafioso Aparo Nardo Triglia, operante nelle zone di Siracusa e comuni limitrofi. Si tratta di beni mobili e attività commerciali per un valore complessivo di circa 500.000 euro. Nunzio Salafia, uno degli storici esponenti, è la famiglia mafiosa Aparo di Siracusa alleata alle famiglie Nardo Triglia-Santa Panagia, gruppi mafiosi di cui il Salafia ha cercato di ricondurre ad unità contro il gruppo malavitoso siracusano, storicamente contrastante, denominato Buttaro Attanasio. Il Salafia, nella sua biografia criminale, annovera diverse condanne per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, sequestro di persone ed estorsione. L'impegno degli organi di polizia sul fronte alla lotta all'accumulo di illecite ricchezze dei clan mafiosi si è concentrato sulla puntuale verifica delle modalità di acquisizione del patrimonio del Salafia ed è culminato con l'inoltre due distinte proposte di misura di prevenzione all'autorità giudiziaria che le ha pienamente accolte, mettendo esenzia alla normativa antimafia questo provvedimento di confisca che fa seguito a precedenti provvedimenti sequestro beni emessi alla fine del 2013. Il Tribunale di Siracusa ha dunque positivamente valutato sia il curriculum criminale rilevandone la pericolosità sociale sia l'esito degli accertamenti patrimoniali che hanno permesso di constatare l'assenza di risorse lecite e donne a giustificare gli investimenti posti in essere, affiancata da una cospicua e generalizzata sproporzione tra i reddi dichiarati e i patrimoni posseduti. Al termine di una verifica nel settore delle accise svolta nei confronti in una nota società palermitana di autotrasporti, le Fiamme Giolle e il gruppo di Palermo hanno scoperto una consistente vendita in nero di carburante che ha determinato un'evasione dell'imposto dovuta sull'ammontare dei ricavi pari a circa 2 milioni e 300 mila euro. Nei documenti esaminati all'inizio del controllo è risultato che l'ultimo carico di carburante era stato effettuato ben due anni fa. La circostanza è sembrata strana, considerato che l'azienda effettua trasporti su strada in tutta Italia e dispone di oltre 200 camion. Per questo i finanziari hanno verificato i dati contenuti nella colonnina di erogazione da cui invece è risultato che ben 3 milioni e 600 mila litri di gasolio sono usciti completamente in nero. Non solo, ma da alcuni esami di laboratorio è emerso che si tratta di prodotto di qualità scadente per cui sono tuttori in corso ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza del carburante. La colonnina di erogazione è stata sequestrata mentre il rappresentante legale della società è stato denunciato per l'evasione dei tributi dovuti sulla somma incassata ma nascosta al fisco. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e del comando provinciale di Catania cogliuvati dagli ispettori della direzione territoriale del lavoro hanno intensificato i controlli del mondo del lavoro riscontrando ancora una volta lo scarso livello di osservanza delle regole. L'assessore al lavoro della regione siciliana e il professore Sebastiano Caruso ordinario di diritto del lavoro a Catania considera di fondamentale importanza questa attività di controllo per mantenere alta l'attenzione sul rispetto dei contratti di lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Durante il servizio sono state ispezionate 5 aziende e verificate 14 posizioni lavorative scoperti 6 lavoratori in nero sospesse all'attività imprenditoriale di una prima impresa commerciale cinese a Catania per aver impiegato un lavoratore in nero su 4 presenti sospesse inoltre l'attività imprenditoriale di una seconda attività commerciale cinese a Catania per aver impiegato 5 lavoratori in nero su 6 presenti denunciati due titolari delle attività imprenditoriali per il lecito utilizzo di impianti di videosorveglianza senza l'autorizzazione della direzione territoriale di Catania e in mancanza di un accordo sindacale come previsto all'assoluto dei lavoratori denunciato inoltre il titolare di un'impresa commerciale di abbigliamento per la presenza di impianti di estinzione scaduti e per inidoneità igienico-sanitaria dei locali assistenziali elevate ammende per 28.000 euro accertate sanzioni amministrative per 31.000 euro e recuperati contributi IMSS per 7.500 euro 5.383 tonnellate di pneumatici fuori uso sono stati raccolti nel primo trimestre del 2015 3.543 le richieste vase un servizio capillare che raggiunge tutti gli angoli dell'isola più grande del Mediterraneo con la collaborazione di imprese locali e pensato per rispondere alle esigenze di gommiste, d'officine, punti di ricambio e stazioni di servizio sono questi alcuni dati emersi questa mattina durante la presentazione appunto dei risultati del progetto sulla raccolta di pneumatici fuori uso svolto alla Serbeco per conto del consorzio Ecopneus iniziato già a gennaio di quest'anno e che si concluderà nel 2017 con oltre 2.500 punti di generazione di EPFU sparsi in tutta l'isola la sfida è stata raccolta con passione ed entusiasmo dicono i rappresentanti e le due società e i risultati si possono già quantificare l'iniziativa è stata pensata e organizzata da Serbeco in collaborazione con Ecopneus confambiente e patrocinata all'assessorata dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione Sicilia per offrire l'occasione di conoscersi di persone un ulteriore passo verso l'ambizioso obiettivo di fare squadra per risolvere il nostro problema e l'abbandono incontrollato degli pneumatici sul territorio e condividere le opportunità che il nuovo servizio offre una buona raccolta di pneumatici fuori uso non è solo un gesto obbligato ma un passaggio necessario per la lotta contro le illegalità che pesano sul settore creando valore sociale, ambientale ma soprattutto economico puntando all'efficienza e risparmio anche di tempo andando incontro alle esigenze e alle aziende servite quanto è importante raccogliere i pneumatici fuori uso e soprattutto spieghiamo quando non si raccolgono quando c'è il fadiate che si bruciano in casa cosa può succedere? Allora, è molto importante raccogliere correttamente il pneumatico fuori uso perché se questo viene invece scaricato nell'ambiente e lasciato lì in maniera incontrollata innanzitutto è destinato a durare lì secoli e poi quando viene bruciato perché questa è la fine che fa spesso rilascia sostanze tossiche nell'aria ma soprattutto sostanze tossiche nel suolo che poi vanno nelle falde a inquinare l'ambiente L'inizio, in questi tre mesi abbiamo raccolto oltre 5.000 tonnellate di pneumatici in Sicilia che portano, quindi ci portano una previsione di oltre 20.000 tonnellate nell'anno che sarebbe un record per la Sicilia Dal 2011 ad oggi il Consorzio Eco Pneus ha raccolto oltre 840.000 tonnellate di pneumatici fuori uso risultato importante e quali le prospettive future? Le prospettive future sono certamente di aumentare la capacità di fare il recupero di materiale così come richiede il legislatore sia comunitario che italiano e quindi aumentare la quota che invece di dirottare il recupero energetico verrà dirottata il recupero di materiale In termini invece di raccolta abbiamo già raggiunto il 100% cioè stiamo già raccogliendo tutto quello che il gommista ci dà quindi abbiamo una situazione ottimale di raccolta e invece molto migliorabile nel trattamento e nel recupero abbiamo invece un'aspettativa di vedere che il cittadino cessi in alcuni casi di comprare pneumatici in nero perché ogni volta che un cittadino compra pneumatici in nero costringe chi glielo ha venduto a far sparire quello che testimonierebbe la prova di questa vendita e questo è il motivo per cui ancora oggi nonostante noi assolviamo totalmente gli obblighi di legge ci sono ancora dei pneumatici abbandonati vengono abbandonati i pneumatici che un cittadino ha comprato senza pagare lo scontrino A due giorni dal 25 aprile per questa festa è importante che serve a non dimenticare quali i suoi ricordi e soprattutto qual è il suo insegnamento ai giovani? I miei ricordi sono sempre quelli che quando nel 43 sono stato in montagna sono andato a finire in montagna perché vedevo i giovani i giovani che partivano in montagna sentivano le orecchie parlare di libertà di giustizia di lavoro di uguaglianza queste erano le parole che si dicevano allora e non c'è dubbio che allora si riuscì a portare questa libertà la libertà che dopo alcuni anni stanno cercando di togliercela stanno cercando piano 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 con l'avvento di chiamiamo neofascisti ma sono peggio dei fascisti stanno riuscendo piano piano a fare ora io cosa dico ai giovani tenetela questa libertà che non abbiamo votato miglioratela un anniversario importante quest'anno 70 anni dalla liberazione d'Italia 70 anni in cui tanto è cambiato e in cui forse però si è anche dimenticato si riflette meno bisogna in queste giornate approfittare per insegnare ai giovani cosa è stato il passato ma soprattutto cosa può essere il futuro se si credi negli ideali il 25 aprile festeggia la liberazione dell'Italia dalla brutalità nazifascista la prima cosa che bisogna dire è che le due parti che combatterono non erano uguali c'era chi combatteva per la democrazia e per la libertà c'era chi combatteva sul fronte sbagliato rispetto per tutti i morti ma bisogna ricordare che l'Italia è una repubblica fondata sull'antifascismo e sulla resistenza partigiana poi bisogna dire che il 25 aprile di oggi ha un significato ancora più profondo stanno morendo migliaia di persone nel Mediterraneo e i governi inutili e incapaci pensano di andare a distruggere i barconi in Libia qui bisogna aprire subito un corridoio umanitario per salvare la gente e smetterla di pensare solo al denaro e all'Europa delle banche bisogna immediatamente dare aiuto a chi sta morendo a migliaia e ancora il 25 aprile oggi ha un ulteriore significato importante perché c'è un fronte tutto interno in fronte dei diritti e delle libertà la CGL rivendica la grande partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori al movimento di liberazione nazionale i primi scioperi contro i nazifascisti li abbiamo fatti nell'Italia occupata e i lavoratori li hanno pagati con la deportazione e con la morte noi siamo qui oggi eredi di quei lavoratori sperando di essere all'altezza solo del loro ricordo e speriamo oggi di continuare quella battaglia di diritti e di civiltà quindi il 25 aprile è importantissimo a difesa della Costituzione italiana che può essere emendata, migliorata ed aggiornata ma a nostra volta quindi il 25 aprile la CGL di Catania sarà in piazza con le sue bandiere, il suo stricione le sue donne e i suoi uomini a gridare che ancora una volta l'Italia è una repubblica antifascista Per il quarto anno consecutivo viene scelta la Sicilia per questo progetto Sanremo d'Occo per scegliere i migliori talenti la Sicilia fucina di bravi cantanti? E' quello che dico sempre quando mi chiedono perché vai in Sicilia a presentare Sanremo d'Occo che comunque è un programma nazionale sarebbe più facile presentarlo a Roma o a Milano anche a livello proprio di presenza io scelgo la regione che più mi ha dato tanto mi ha fatto fare il salto di qualità a livello proprio artistico perché gli artisti che sono passati per Sanremo d'Occo potevano tranquillamente stare nel vero palco del festival cioè Sanremo e tanti da noi poi sono finiti in trasmissioni nazionali quindi preferisco andare lì dove c'è il vero talento io penso che nessuna regione in Italia come la Sicilia possa dimostrare questa realtà c'è una fucina di talenti come ha detto lei poco fa Spieghiamo un attimo meglio cos'è casa Sanremo e cos'è Sanremo d'Occo Certo, casa Sanremo è la sede ufficiale dell'ospitalità del festival di Sanremo quindi tutti gli artisti del festival una volta che hanno finito la loro esibizione per stare un po' in tranquillità vengono nella nostra sede che è il Palafiori 100 metri dal teatro Ariston all'interno del Palafiori c'è un programma televisivo che nel 2016 farà la sua undicesima edizione che ha avuto ospiti tutti gli artisti del festival nelle edizioni passate quindi per l'undicesima volta Sanremo d'Occo non è un festival è un programma televisivo che dà un'occasione di vetrina a coloro che secondo me non hanno la forza economica per promuoversi a livello nazionale Una grande soddisfazione quella della Star Production Academy per il quarto anno consecutivo questa collaborazione con Sanremo alla scoperta di talenti di eccellenze nel campo della musica, del canto tutte siciliane Sì sicuramente una bella scommessa ed è stata veramente un'emozione grandissima poter partecipare in questi anni a questo grande progetto di Sanremo d'Occo che vede protagonisti i nostri ragazzi che hanno trovato veramente delle produzioni discografiche hanno trovato chi scommette tra di loro perché è una grande vetrina che consiglio di fare a tanti Tra i vostri ragazzi ha già individuato qualche nuova eccellenza? Sì ce ne sono tanti ci sono ragazze che sono entrate a tirasciare una canzone a Io Canto ad Amici si sono giudicate addirittura a Castrocaro il secondo posto quindi diciamo che abbiamo avuto grandi soddisfazioni Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti